Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo pioggia e vento forte su gran parte della Toscana, raccomandiamo di modellare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Per la mobilità il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. Segnaliamo che in A1 per lavori all'interno delle gallerie è chiuso fino alle 18 e il tratto compreso tra Rioveggio e Pian del Voglio in direzione Firenze. I fipili possibili disagi per lavori all'altezza del turbone tra Montelupo e Ginestra nelle due direzioni. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze tra i lavori al via questa settimana segnaliamo lavori di asfaltatura in Viale Petrarca e nei parcheggi di Viale Corsica e Via del Tersolle e lavori per l'estensione della rete idrica e fognaria in Via del Ferrale. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!